A volte penso che i miei video youtube non abbiano senso, quindi oggi vi racconterò una storia di come ho perso le scarpe. Ero molto affezionato a quelle scarpe. Mi son detto di voler provare insomma esperienze diverse a livello sportivo oppure anche fare eventi particolari qui a Lisbona e quindi accedere a dei siti come Meetup, Internation eccetera e iscrivermi. E nel mentre ho anche detto appunto proviamo sport diversi, vediamo che sport possibili si possono fare qui a Lisbona che vabbè sono gli stessi che si possono fare in qualsiasi parte del mondo tranne il surf e iniziamo a schedulare qualche giornata in cui vado a fare questi sport qui. Allora vado a fare surf, bellissimo, una volta l'ho fatto poi basta mi sono stancato però è stato interessante, è un bello sport, un po' anche una metafora di vita come sport che bisogna prendere l'onda giusta, eh? Ok, a parte questo poi ho trovato una palestra di Taekwondo con lo sport dove si tirano in calci rotanti e cosa è successo? Praticamente sei arrivato a Taekwondo, arrivi lì nella palestra, arrivo lì nella palestra e io pensavo insomma di essere seguito in un gruppo più ristretto di persone. Entro e c'è, ci sono tipo due file di persone, di dieci studenti, mettiamola così, con il maestro che parla solo portoghese ovviamente e io arrivo per ultimo, chiaramente perché non sapevo dove fosse l'ingresso della palestra arrivo per ultimo, molto bello, e il tipo mi dice in portoghese di mettermi nel mio quadrato di gioco ok, mi metto là e per tutta la lezione di Taekwondo ho imitato quello che facevano gli altri tra stretching, tra mettersi sotto le gambe di altre persone per fargli fare stretching alle gambe a loro, a questi pro tirare calci ovviamente, tirare pugni, non pensavo stirassero anche pugni però sì fare calci rotanti imitando gli altri senza aver mai tirato un calcio in vita mia vabbè, questa è la prima lezione di Taekwondo, senza che il tipo mi dicesse niente, cioè neanche mi ha guardato in faccia e avevo questo partner con cui scazzottavo, tiravo calci che non parlava inglese, quindi è stato molto divertente e niente, poi sono andato in spogliatoio, ho preso la mia roba, un tipo mi guarda e mi fa ehi fratello, ci vediamo lunedì allora, mi ha detto sì, cazzo, lunedì sarò qui e sono uscito, sono tornato a casa e niente, avevo le scarpe della palestra e mi sono dimenticato le scarpe mie Air Force là e no, non sono tornato lunedì e ho lasciato là le scarpe, quindi questa è la fine della storia